Benvenuti in Paglieri. Paglieri è un'azienda italiana storica con oltre 140 anni di innovazione nel campo dei profumi. Paglieri produce il famoso felce azzurra. Abbiamo fatto un intervento strutturale su nostre linee. In particolare abbiamo effettuato un revamping attraverso retrofitting della linea P22 che è quella che produce il tradizionale bagnoschiuma felce azzurra. Per quanto riguarda invece la linea A1 parliamo di un progetto ex novo nato completamente da zero che prevede l'insourcing della produzione dei nostri ammorbidenti diluiti. Con Paglieri abbiamo avuto l'opportunità di realizzare un progetto Industry 4.0 veramente da manuale. Abbiamo potuto collegare macchine diverse, di costruttori diverse, nate stand alone, tutte insieme al sistema di Big Data Analytics di Paglieri semplicemente utilizzando la tecnologia Alleanza e Cisco e i driver per ciascuna macchina. Un progetto in cui il mondo di produzione, che è sempre stato un mondo chiuso dove i dati rimanevano segregati e poco fruibili, si è unito al mondo dei dati gestionali. In questo ambito abbiamo sicuramente pensato a Cisco che è un po' sinonimo di sicurezza. Cisco per il progetto Paglieri ha messo a disposizione la sua tecnologia di edge computing, in particolare un dispositivo che integra funzionalità di switching, di routing, di security nonché la funzionalità di hosting delle applicazioni come quella Alleanza per l'interfacciamento a quei sistemi industriali. La sicurezza di rete ha svolto un ruolo fondamentale nel progetto, in particolare la tecnologia Cisco ha permesso di garantire l'isolamento, la segregazione della rete industriale da quella aziendale in Paglieri e quindi ha garantito la sicurezza dell'intero progetto. La nostra linea sta funzionando a una velocità ottima, stiamo avendo vantaggi in termini economici già oggi molto evidenti. La nostra linea sta funzionando a una velocità ottima, stiamo avendo vantaggi in termini economici già oggi molto evidente.